bonjour mi è appena arrivata la degusta box quindi purtroppo oggi non ho la telecamera con me quindi devo fare questo video un pochettino brutto col cellulare per farvi vedere che cosa mi è arrivato ricordatevi che vi lascio nel box informazioni il mio codice sconto quindi potrete avere la degusta box a solo 9,99 anziché 16 euro mi pare e poi potete anche interrompere lì l'abbonamento oppure continuare dare il vostro codice sconto a due amici e ricevere la box gratis quindi iscrivetevi perché mi manca solo una persona per avere la prossima box gratis quindi mi raccomando vediamo cosa c'è allora questo è un classico della degusta box molto spesso lo inseriscono il buon di piace molto a mio padre li darò a lui idem per la birra la birra puretti sì anche questa mettono spesso ogni volta che ne esce una nuova la inseriscono e la darò a lui poi ho già visto una cosa meravigliosa che sono questi pocket coffee che non hanno latte quindi sono meravigliosi questi li potrò usare a mangiare anch'io poi un piccolo aceto balsamico di modena ci piace martini l'aperitivo ok questo è allora sale integrale sale grigio anche questo va bene questo no non mi piace la menta non mi piace il tè verde quindi lo darò a mio papà questi anche ci sono stati un'altra volta sono buonissimi come snack da avere in borsetta allora questi sono i ceci e questi sempre ceci no le fave sono buonissimi poi abbiamo che buoni i biscotti ai cereali vediamo se tra gli ingredienti hanno latte allora farina zucchero olio di girasole sciroppo di glucosa vabbè gli ingredienti si sa in questi biscotti così ci sono gli zuccheri però almeno non hanno latte burro queste cose qua poi mentos vitamine non ho capito se sono ah no c'ingombine sì e per tenere bruschette alla cipolla ok sono molto molto contenta di questa di questa box mi piace quasi quasi tutto per cui iscrivetevi è bellissimo perché il valore dei prodotti come potete vedere è molto più alto di 9,90 euro quindi fate questa questa esperienza poi decidete se restare o no io sono iscritta da tipo tre anni è bellissimo e ne ho ricevuto tantissime gratis quindi mi raccomando non approfittate del mio sconto ciao ciao